Ero momentaneamente distratta. Abbiamo già discusso su questa delibera e quindi volevo ringraziare tutta la Commissione urbanistica che nel corso di questi due anni ha seguito il tema, sia la maggioranza che l'opposizione, proprio perché probabilmente noi come consiglieri del Comune ci siamo sentiti investiti da questo problema e penso che ognuno di noi in questi mesi abbia ricevuto migliaia di messaggi, di mail, di persone, come dicevo anche l'altra volta, davvero in alcuni casi disperate. E quindi auguro anche agli uffici di proseguire questo lavoro come hanno fatto in questi due anni, ma di dare appunto seguito a questa delibera di indirizzo perché viene veramente da un lungo lavoro fatto in Commissione, con gli uffici, con la partecipata Risorse per Roma che segue le pratiche, con i cittadini, con i comitati di quartiere e ci sentiamo quindi di rivolgere un appello ovviamente agli uffici, all'assessore, affinché nei 30 giorni previsti dalla delibera noi possiamo effettivamente arrivare ad avere una nuova delibera che armonizzi tutti gli atti che finora sono stati emanati dal Comune. Mi auguro quindi che quest'Aula esprima voto unanime su questa delibera perché credo e sono convinta che tutti quanti abbiamo a cuore il tema. Grazie.